entrare in pista Paolo dopo ricorda che una cosa ecco Giorgio fermati un attimo vai alla recezione radio a prendere, vatti consegnare il pedarello, ragazzi il pedarello per favore eccolo Giorgio vogliamo la tua firma aspetta un attimo Giorgio ed ecco a prenderello e a a a a a a a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi stanno dicendo che do il metro, voglio lo dire. Centi metro, vedremo chi passa più basso. Io adesso metterò in pista un bicchiere di plastica vuoto e voglio vedere chi di voi lo centra. Grazie a tutti. Eccolo, distruzza a noi. Su, guardate, luce ascese e su, si prepara. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.